Ciao a tutti e bentornati nel vostro Leferri, proseguiamo con la campagna di PC Building Simulator un gioco che ho portato molto tempo fa nel canale e che ho deciso di riscoprire in live per l'occasione vediamo un attimo carriera, continuo, devo un attimo ricordarmi su come si fanno le azioni basilari ma dopo i primi minuti che saranno probabilmente un ostacolo non dovremo avere grossi problemi buonasera a tutti nel frattempo e vediamo un po' allora, qui incredibile ma vero ve lo giuro c'è lo sfondo del mio computer reale e l'ultima volta non c'era questo aggiornamento, che figata, che simpatica come cosa questa cosa qua non era così, è bella 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 allora vediamo un attimo, io sono di livello 2 e ho 885 dollari messi via bene, allora devi essere livello 3 per sbloccare il secondo tavolo da lavoro livello 8 per sbloccare il terzo tavolo da lavoro se non ricordo male, questo qua è il mio computer per le commissioni questo qua è da sistemare, vedete, bisogna sostituire il raffreddamento dell'aria pulirlo dalla polvere, vabbè ok e il pc deve buttare fino al sistema operativo bene, allora questo qua lo prendiamo e lo mettiamo qua, che è l'unico banco di lavoro che ho allora, rimpiazzare il air cooler, quindi il raffreddamento vediamo un attimo di rimuovere le cose come faccio a muovere la visuale? non si può, ah ecco ecco perfetto perfetto ok, l'air cooler ragazzi eh, missing part replace l'air cooler è il dissipatore e fin qua ci siamo, dovrebbe essere attaccato al coso? è alle 5, alle 5 giova purtroppo è alle 5 come cacchio si muove? case part, dust filter, vabbè questo qua non ci interessa ma sapete che... è a tutti gli effetti un mistero è questo cpu shield, ok, la ram non mi interessa unplug lo cazzo sta all'air cooler, dov'è l'air cooler? ma non c'è l'air cooler qua, cosa devo rimpiazzare? magari devo mettercelo semmai installare, vediamo un attimo case fence, air cooler vai, io provo a cercare air cooler, vediamo cosa viene fuori bello l'ho decisamente scritto male eh ancora l'ho scritto male, sono un po' dislessico oggi ok pasta termica e... boh, allora togliamo sto pannello vediamo che succede questo è decisamente un gioco tranquillo eh ogni tanto mi diverte molto farli allora unplug, unplug che cacchio hard disk open drive bay, open drive bay e io non capisco eh ciao hauser allora rimuovere la scala grafica qua unplug, unplug pc can boot ok parts 10 dollari rimanenti e non lo so ragazzi c'è boh air cooler ama broken vendi mortoni vendi forse forse ho capito un attimo eh forse forse ho capito bisogna comprarlo allora bisogna comprarlo allora vediamo magari da qua eh shop shop cpu cooling air cooler proviamo 20 20 10 mortoni thermal add to cart ok perché 40 dollari che cazzo sta dicendo qua 10 next day delivery ma no ma figuriamoci come faccio a cambiare la cosa qua 3 working days 10 dollari ma dai ma che spreco allora fermi tutti eh music player vediamo qua se abbiamo altre cose hot and broken pc ok staff for my daughter's new pc upgrade a 16 giga di ram no no ieri no non l'ho fatta ti confermo che non l'ho fatta ieri perché ho avuto no problemi però sono stato della fidanzata per cui niente upgrade 8 giga di ram ok new parts available va bene ok grazie in transito in transito vai al pc accetta ok vediamo un attimo abbiamo accettato un po' di lavori select wallpaper si mettiamo qualcos'altro perchè non si vede niente del cacchio ecco così va già meglio qualcosa di un po' più scuro perfetto aggiungi i nuovi programmi no thank you ah user conosci questo gioco è molto carino eh però bisogna essere un po' su manettoni di computer 3 virgolette l'inventario vabbè eh niente io dovrei comprare il coso allora il dissipatore qua d'altronde cpu cooling qua non ho niente molto molto male e vabbè allora compriamolo dai 10 dollari di spedizione mi stanno altamente sulle valle però è inevitabile per cui cpu cooling mortoni thermal vabbè e però posso prendere eventualmente anche della ram eh memoria 8 giga di ram ma che ram vogliono sti pezzenti vediamo un attimo email allora upgrade fino a 16 giga di ram I'm giving my daughter bla 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 allora al momento ha una schedina da 2 giga e una da 4 quindi possiamo prenderne due da 8 per questo e questo 8 vabbè ok ok plastic black cables eh va bene labor 122 budget 150 vabbè allora prendiamo della ram eh vediamo un attimo qua shop memory allora prendiamo ovviamente le più economiche perché più ci mangiamo su meglio è insomma dai questo mi pare ovvio 2 giga 4 giga 4 4 4 4 4 8 questa qua è 60 direi invece un 4 giga per 4 quanto costerebbe eventualmente no 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 la cosa più conveniente sono queste qua allora queste qua ne prendiamo una due tre andiamo al carrello mettiamo questa qua in modo che spendiamo poco di spedizione e direi che ci siamo eh cpu cooling beh togliamone uno e la ram perfetto e poi tools and software vediamo se abbiamo qualcosa per pulire magari case fence no cases cables loose plastic plain black vabbè 100 dollari ma che cacchio stanno dicendo per dei tubi di plastica posso fare di testa ma cosa stanno dicendo qua vabbè buy now benissimo benissimo arriverà in 3 barra 5 giorni lavorativi per cui qua mi sa che la giornata l'abbiamo finita in quanto non possiamo fare nulla di nulla pc can boot to us ok missing part va bene non ci dice nulla eh no va bene ok e per concludere la giornata delivery of morton easy store 500 giga delivery of shin vabbè ok ma che giorno è oggi che non si capisce non ne ho idea non ne ho idea vabbè comunque andiamocene e vediamo un po' e pay until bill ok and day vai vediamo che succede i need my pc cleaning ok eccoli qua tutti i lavori arrivati eh upgrade 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 clean clean out dust e possiamo metterlo qua è quello il problema i mortacci tua posso fare così però volendo e metterlo qua giusto ok clean mamma mia che porchi riesto qua allora per lavorare installare installare no compressed air ok open case giustamente non è mica torto eh apri qua gta no 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 si sia in prima persona quello si ok però tutto il resto no 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 però è simpatico molto simpatico quello te lo garantisco pulisci pulisci si bravo si effettivamente qua in live portare giochi simulativi divertenti secondo me è un'idea azzeccata e ne ho molti se devo essere sincero ho questo ho quello di cucina quello di ristauro restauro delle auto e quello di restauro delle case anche per cui cosa fai cosa fai cosa fai devo fare così io l'abbiamo pulito? si ok power cable qua qui un altro cavetto qua questo lo mettiamo qua e power vediamo se funziona in teoria dovrebbe eh quattro giorni eh mi dispiace giova cavolo mi dispiace ti capisco ti capisco molto incomplete case ti capisco case fan side panel ah presumo sia questo bene place in the delivery area piazzare nell'area di spedizione perfetto questo lo prendiamo i cavi si sono staccati in automatico per fortuna altrimenti li avrei strappati e l'area di spedizione presumo sia questa giusto? teoria fix upgrade cos'è sta roba qua? air cooler perfetto e basta? vabbè sistemiamo il computer di prima ok qua eh installa cpu cooling questo lo mettiamo qua cos'è sta roba? ah devo scegliere la rotazione what the fuck lo stare boccando me lo ricordavo bene ha funzionato credo no? o no? replace air cooler remove air cooler no eh ma o sto lavoro è buggato oppure c'è qualcosa che non quaglia eh cioè questo qua è nuovo lo metto io cazzo missing cable ah ok cable vediamo un attimo questo la mettiamo qua ah giustamente era da collegare dissipatore pirla è sottoscritto effettivamente eh perché sta qua non me la collega qua? va bene questo? ah perché era nascosto qui perfetto e questo qua bene power e vediamo se tutto funziona l'uino lago maggiore non so dove sia non so dove sia il jove dov'è? questo qua comunque funziona mi pare no non ancora no keyboard eeeh già 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 cable qua bene e adesso che c'è la keyboard devo spegnerlo riaccenderlo così e così vediamo lombardia ah ok 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 utile sapersi incomplete case non c'è problema side panel sì sperando che sia quello giusto ne mettiamo uno a casa facciamo tipo il computer di arlecchino io onestamente trovo che sia eeeh un gioco simpatico incomplete case perchè incomplete case? cosa minchia dici? ah no no hanno perfettamente ragione manca un pezzo di qua piccolo dettaglio vabbè alla fine mi diverto a fare il computer ultra leggeri così vanno più veloci ok spegniamolo vero eeeh via prendiamolo spedito anche questo qua upgrade upgrade a 8 giga di ram va bene mettiamolo qua eeeh remove togliamo il pannello laterale giustamente chiudiamo tutto e qua ci deve essere qualche banchetto di ram questo qua ovviamente lo mettiamo via vero vero questa ce la fuffiamo noi via bene install memoria beh ah vuoi vedere che non mi è ancora arrivata la ram porca vacca non mi è ancora arrivata la ram cazzarola e infatti che palle station renovation so cos'è giova ma non ce l'ho purtroppo so che è un gioco relativamente nuovo vero eeeh di cosa parla di rinnovare tipo le stazioni ferroviarie una cosa del genere se non mi ricordo male eh qua mi manca la ram cosa minchia faccio io niente qua ci sono altri lavori però collect grande go to pc go to pc collect grazie nuove parti disponibili va bene installare shiran power king 600 sarà tipo un alimentatore e il 3d mark va bene la fattura dell'elettricità che chiulo ciao hauser ciao ok bene niente qua la giornata la chiudiamo perchè se non abbiamo la ram purtroppo non possiamo fare molto guardatelo che bello tema halloween hehehehe che figata queste cose qua non c'erano al lancio del gioco eh l'hanno migliorato moltissimo upgrade eh ci manca la ram cosa minchia devo fare io chiudiamo la giornata dai sperando che ci arrivi la 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 ram oggi no non è arrivato niente male molto male molto male vediamo se c'è qualche altro appalto go to pc eh ho capito new parts available va bene rimpiazzare la scheda madre pulire il pc certo e basta ma non è arrivato nulla qua no di nuovo upgrade cos'è che ha da fare questo ah ok installare shin power king 600 o meglio però dobbiamo comprarlo dobbiamo comprarlo questo qua manca la ram dobbiamo ancora arrivare qua ci sono le candele ma manca il banco da lavoro giusto così eh 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 upgrade eh ho capito si cos'è sto shin power king house flipper ce l'ho quello ce l'ho ecco si vediamo shian questa qua è una marca che onestamente non credo esista molto in realtà eh però vabbè dettaglio add to cart ok e please pay ah paga dai tieni infami in transito to turn out your lights ma va da fuck posso anche spegnere la luce per risparmiare ah beh allora lavoreremo sempre al buio d'ora in poi house flipper mi piace moltissimo mi piace moltissimo sul canale c'è la serie ufficiale ha fatto tipo una dozzina di puntate eh mi ero impezzato molto con quel gioco si si confermo confermo anche il computer sarebbe da spegnere allora spesso e volentieri eh 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 pay utility bill ma praticamente noi non capisco che giorno è oggi in sto gioco che non si capisce boh vabbè comunque qua non possiamo fare nulla perché ci mancano le cose sarebbe da comprare ma no più avanti dai queste luci qua? niente eh ok fine della giornata ok go to work qui sono arrivato un sacco di cose è arrivata la ram che ho comprato è arrivato un altro mortoni ma chi l'ha comprato sto mortoni qua? car mechanic simulator un altro gioco che mi piace tantissimo e anche lì ho fatto davvero tante tante puntate nel canale davvero divertente sì quello è un gioco perfetto per le live secondo me complete by end of the day clean out dust non c'è problema adesso la facciamo beh in realtà posso fare la ram qua visto che ci siamo allora installa la ram eccola qua da 8 gigi 8 gigi qua perfetto no open close ok perfetto pc can boot eh sì e i cavi per accenderlo questo 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 qua e la tastiera sono davvero belli sono d'accordo sono d'accordo installare pannello laterale pannello laterale finché si accende ci portiamo avanti eh non abbiamo tempo da perdere qua spegniamo pigliamo spediamo accendiamo perfetto poi pulirlo della polvere questo qua è fatto ready to boot ok bisogna pulirlo però va bene mettiamolo qua allora smontiamo il pannello tutti trasparenti questo computer eh per un qualche motivo tutti trasparenti ok ok dove è quello per pulire ah eccolo qua vai 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 ciao ciao sirus ciao sirus conosci questo gioco è bellissimo grazie sirus grazie mille apprezzo molto apprezzo moltissimo ciao gabriele allora l'abbiamo pulito io direi che possiamo attaccare i cavi eh cable cazzarola l'hai visto nei vari negozi online è molto bello è molto bello è molto simpatico e devi essere un appassionato di computer eh perché altrimenti non trovi divertimento cioè è un simulatore fatto bene però la base è che ti piacciono i computer ecco e a me piacciono molto i simulatori in realtà e questo qua anche ovviamente installiamo questo qua perfetto avrei potuto accenderlo in realtà nel frattempo vabbè peccato ok power sperando che parta eh che bellissimo sfondo che ha questo ah ah lui ha installato counter strike source cos'è sto gang down style ah doom ha pure installato incredibile e hearthstone heroes of warcraft non possiamo spulciare nei segreti di sto coso per vedere ricattarlo magari no tipo ho il tuo computer in stage se non vuoi che sbandiero tutto portami dei soldi in più vabbè dai ok hai fatto l'informatico ah beh allora cavolo allora penso tu abbia un po' di passione a meno che non l'odiasi come lavoro però e spegni prendi spedisci collezioniamo un po' di cosi qua di 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 email allora cosa possiamo collezionare questo qua no upgrade collezione 182 no non ti piace a me piace tantissimo invece piace tantissimo mi sono fatto il mio ho fatto quello di un mio amico di una mia amica piace un sacco a me montare ovviamente mi piacerebbe fare computer da da 2000 euro hai capito però mi sono contentato di fare pc discreti e go to pc e questo qua dicono vabbè fidiamoci allora upgrade a 16 giga di ram togliamo il pannello fraterale smontiamo qua smontiamo qua smontiamo qua ciao Gabriele non so se ti ho già salutato penso di sì ma nel dubbio lo rifaccio installare la ram come incompatibile ma come incompatibile ma che ram di merda sto computer qua ddr3 no ah forse perché devo togliere questa prima ah ecco ecco ok ok scusate mi ero pigliato male potremmo anche eventualmente riciclare questa ma ce ne servirebbero due di banchetti no uno eh dai installiamo questo e questo open ovviamente vanno messi a cose parallele per fare il il dual channel dual channel no ieri non ho fatto la live ero dalla fidanzata e era una vita che non la vedevo allora ho preferito così installare case fan pc parts ok ma in teoria sto computer dovrebbe essere pronto per essere spedito vediamo vedete alterniamo sempre lavoretti semplici a lavoretti complessi cable dobbiamo fare il boot eh sì sì guarda io da inizio aprile e scusa scusa no volevo dire inizio marzo cioè da quando è partita la quarantena anzi forse un po' prima perché non ci eravamo già visti per altri motivi per altri motivi di lavoro o studio insomma fai partire il computer e vediamo un attimo ho 1200 dollaroni ok è partito il computer yes allora spegniamolo prendiamo spediamo fix rimpiazzare la scheda madre qua eh scheda madre vabbè vediamo un attimo giusto per capire se è una mob o grande piccola media cosa cacchio c'è su dentro allora rimuoviamo questo 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 eh abbiato te Gabriele sì sì lo so lo so che ci vivi insieme è meglio per te cavolo niente qua dobbiamo rimuovere tutto per cui porca vac sarà un parto sto cosa io odio fare queste cose cioè mi piacciono ma le odio e comunque c'è la luce spenta qua dentro per cui non vede un cazzo ecco adesso si lavora bene perché va bene risprimiare sulle bollette della luce ma diventare ciechi quello forse non è proprio il caso eh allora vediamo un attimo rimuoviamo questa benissimo rimuoviamo i cavi che è successo? ah qua ok la scada madre eh beh sì dobbiamo staccare tutto cacchio tutto di tutto via questa apre questo apre questo mi sto chiedendo ma non ci sono mica le abilità per smontare più velocemente no? magari dico io boh remove case part muovi anche questo dai sniper lit 4 è bello bello sì sì sono d'accordo sono eh io devo ancora darci però è bello lo confermo unplug motherboard remove ah finalmente via dissipatore apriamo questo tiriamo via il processore un super intel celeron g 3900 e via questa ok car mechanic ce l'ho ce l'ho sirus ce l'ho e da metà marzo cioè è giova è single perchè il problema non persiste Federica è sempre presente qua le viti le lasciamo sto scherzando eh sto scherzando non vi preoccupate è una battuta ci siamo bastati tutti eh non è che sia proprio questo segreto allora scheda madre scheda madre no cazzo cosa ha fatto? perché l'ha rimessa? fuori di testa che possianto per moto l'ho fatto tutto in automatico boh vabbè via ok ah forse devo togliere anche queste per quello non vorrei che qualcuno si offendesse per carità eh che non è quello il senso allora ci serve una scheda madre abbiamo detto vediamo l'inventario com'è che è qua mortoni h170 mac allora lga 1151 broken vabbè eh oh io direi di mettere uno uguale eh io direi di mettere uno uguale e basta dov'è motherboard eccolo qua ma così poche sono le schede madre forse perché devo ancora sbloccarle allora 1.151 sì 1.151 eh io metto questa qua che è uguale identica aggiungiamo al carrello ok colleziona va bene questo qua eh questo qua perché non ce l'ho scusa perché non posso collezionarlo questo qua boh ah discard 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 ah discard è perché le ho già fatte praticamente basta che so che ti sia uguale sì sì 1.151 1.151 go to pc ok questo qua via questo qua rimpiazzare la scheda madre ok questo qua l'ho fatto brutti ricordi delle delle fatture dell'elettricità quindi via allora dobbiamo ordinare un power king 600 e una motherboard allora vediamo qua vi vado nel shop e vado qua nel carrello e ho il power king 600 che è perfetto il mortoni h170 mac spedizione quella da barbone ovviamente non ci interessa che arrivano prima non abbiamo il prime evidentemente in questo gioco e basta direi che possiamo spegnere la luce spegnere il computer che consuma corrente vero? spegni il computerino dove è power? qua sotto forse ah eccolo qua bene e luci 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 non ce ne sono ah è fatto benissimo il 2018 sono d'accordo bello 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 ci ho fatto un sacco di puntate io chiudi e finiamo la giornata io dubito che ci siano arrivati i nostri pezzi onestamente però tentare non nuoce eh accendiamo il computer ozzo e vediamo se ci sono nuove mail allora il nostro computer è un po' un aborto eh pentium g4400 22 dollari di valore la dice lunga email il allora questo qua già preso come appalto pasta termica mancante ho comprato un computer da voi sei mesi fa da team immagino e si sta sorriscaldando non c'è la pasta termica ma che tipo di business del minchia state facendo me lo devi sistemare gratis e per favore testalo prima di mandarcela indietro porca mignotta vabbè ma non l'ho fatto di quella cappella lì eh non credo perlomeno clean out dust va bene upgrade to 16 giga di ram ma porca vacca avevo la saputa avrei fatto un pacco unico là e vabbè questo spegniamo e install machine power working ok quando arrivano i pezzi ve li installo cosa volete che vi dica fine della giornata vai al lavoro sono arrivati pezzi no solo un sacco di appalti però pulire installare pasta termica che non so nemmeno so in casa speriamo di si eh però non si sa mai allora eeeh lo porterò porterò car mechanic 2018 perchè è l'ultima installazione non esistono altre dopo hanno fatto un sacco di dlc che l'hanno aggiornato per cui non credo che faranno un altro capitolo per almeno un altro anno questo 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 ok allora questo per il momento via perchè non abbiamo la ram possiamo pulire questo certo così rimuovi questo eeeh i miei giova dici no 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 rimuovere cosa fai sei impazzito ah la pasta termica la pasta termica ce l'abbiamo bene dai così possiamo farlo quel lavoro lì si 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 allora li ho tagliati di recente da solo ma non sono contento di cosa è venuto fuori e adesso aspetto che ricrescano un po' dopo di che ci sto un po' dietro ecco ci sto un po' dietro è una passione che mi è nata appunto stando in quarantena e mi piace mi piace mi piace mi ringiovanisce un po' per cui ci sta dai giusto per cambiare un po' look io purtroppo è da sette anni che facevo un determinato lavoro tra virgolette avevo dei vincoli estetici per modo di dire nel senso che era contatto con clienti eccetera eccetera per cui bene o male dovevo sempre stare bene negli schemi adesso che mi hanno demansionato sti pezzenti vabbè non dico parolacce non dico ulteriori parolacce non spreco parole riguardo fatto sta che starò un po' più dietro il mio look e farò vedere un po' di più il mio vero me stesso tra virgolette ecco passatemi il termine spero abbiate capito e cable e non so se rosso o blu comunque mi piacerebbe blu il problema è che vabbè adesso faccio un discorso tecnico da parrocchiera perlomeno improvviso ma in realtà non ne sono capace il discorso comunque è che il rosso è un colore naturale che trovi nelle tinte quindi bene o male è facile farlo e dura anche tanto il blu invece non è un colore naturale per cui servirebbero dei prodotti apposta che costano tanto di più e che durano molto di meno per cui sono un po' restio a farlo e mentre il rosso che mi hai già visto sì quello lo farei più volentieri già anche il rame volendo si trova eh se vogliamo essere onesti spegni sto computer prendiamo il computer no è così eh no cazzo manca il pannello laterale dai allora pc parts side panel ok via questo e questo prontissimo via collezioniamo dov'è eccolo qua perfetto bianchi no 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 bianchi no anche perchè i bianchi sono molto delicati eh bisogna decolorarli eccetera eccetera è una rottura sai allora la motherboard ok questo qua con la pasta termica posso farlo vai al pc eccolo qua ok sì ma ancora la luce spenta come i barboni ecco rimuoviamo questo questo basta che so che ti sei uguale ah nonostante ah sì ho capito ti riferivi quando ho detto che è un processore del cavolo sì sì però si accende velocemente è vero è vero questa qua non l'ho tolta no ok allora qua qui abbiamo del lavoro da fare eh togliere il dissipatore ok togliere questo e qua installare la pasta termica termica qua bene poi installare il suo cpu cooling eccolo qua property of presumo sia questo che c'era eh o no the doctor says no aspettate un attimo eh perchè che cosa che non quaglia qua ah no ma questo qua non è quello suo e perchè l'ho tolto questo allora boh vabbè mettiamo uno di questi dai close giustamente questo qua che non ho ben capito ah no ma cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai ok unplug no 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 devo installare io basta cable air cooler perfetto nooo perchè togliendo il dissipatore cazzo ho tolto ho tolto la pasta termica di nuovo eh no cosa ho fatto porca vacca la pupazza che stress allora chiudi questo ok installa il dissipatore questo qua perfetto bene cavi qua e questo qua bene run3dmark allora mettiamo i cavi ok questo qua va qui allora si penso di aver capito cosa intendi come cambio di storia se vuoi ne parliamo se non da fastidio gli altri per me non c'è problema ecco però è anche vero che boh bianchi come Sephiroth si 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 adesso vediamo vediamo di far partire 3dmark no comunque bianchi add programs ah inserire la chiavetta usb allora niente e mi pare di si sai che ci sia anche per computer si installing ma installing dove? dove dove lo stai installando che non ho capito va bene fai ripartire il computer io non ho mica una chiavetta usb di qua da qualche parte ah eccolo qua ok 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 allora add programs ok remove programs no eeeh 3dmark sì ma io non voglio farlo qua io lo voglio mettere nella chiavetta usb 3dmark vediamo se posso fare così porcaccia porcaccia la mignotta così poi vado qua ah eccolo qua l'ho installata l'ho installata anche nel mio computer 3dmark ma va bene lo stesso ok ok va bene si russa allora niente però si dai ho capito cosa vuoi dire e speriamo bene non posso dirti altro onestamente pre-start yes 1400 dollaroni nel frattempo vediamo se sono arrivati nuovi appalti qua purtroppo no ah ecco perché la pasta termica ah replace motherboard ecco quel dissipatore la che non mi ricordavo ok allora 3dmark vai one sì sì potrebbe essere sì effettivamente effettivamente potrebbe essere sì ma devo guardarmi 3dmark per finta qua sul coso ma che cazzo un 3dmark vabbè installiamo il case nel frattempo portiamoci avanti eh ottimizziamo il lavoro ah Stefano sì sì ti piace hai visto che bella che è dai 3dmark comunque veramente questo gioco per gli amanti dei computer è bellissimo eh è bellissimo è divertentissimo niente da dire cavolo niente da dire niente da dire tra questo qua house flipper car mechanic simulator io perderei delle ore credo delle ore delle ore è bella sì però sai cosa da computer non si vede mica cos'è non si vede molto che cos'è praticamente quella emoticon lì sarebbe io messo così però non secondo me non rende bene come dovrebbe da computer dopo da cellulare onestamente non lo so magari si vede più in grande quello della stazione non ce l'ho io però me lo diceva prima giova infatti station renovation una cosa del genere deve essere simpatico sì quanto cazzo dura sto cosa di 3dmark basta ah finalmente cpu test 5 fps pare un po' una cagatina come computer eh comunque vabbè placement delivery area ok spegni prendi piazza collezione eccolo qua ah zero dollari eh porca vacca adesso mi mettono anche i voti bongol cos'è che è hai raggiunto il livello 3 adesso hai sbloccato ryzen quad core e a320 mob ok va bene grazie mille hai controllato bongol no non l'ho controllato bongol installiamo bongol ma dov'è dov'è bongol virus scanner eccetera eccetera come si usa bongol ragazzi ci ho allegato le cose per il login dove replace motherboard come si fa a usare bongol qua music player email shop boh boh lightning virus scanner io non so come si usi bongo lì sto proprio in sto computer bongol piccolo dettaglio prova a cliccare sta hai ragione bravo bravo però in realtà non è cambiato niente email shop ragazzi non so dove sia bongolo onestamente qua in alto a destra non funziona non lo so non lo so qua serve il coso che abbiamo comprato qua la ram qua 16 giga di ram che dobbiamo ancora comprare vediamo un attimo shop memoria 8 giga 1 e 1 2 che prenderemo più avanti forse devo comprarlo e vediamo hai ragione si ma 300 dollari porca vacca vabbè usb drive an extra usb vabbè 10 dollari ok un po fastidiosa come cosa però va bene dai sì 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 ho fatto fatto grazie sirus non c'avevo neanche pensato onestamente speravo che fosse una cosa gratuita invece ci hanno anche aspettato però vabbè niente direi che questa giornata è finita per cui spegniamo la luce speriamo il computer ozzo ehm altre luci non ce ne sono andiamo avanti fine della giornata mi sta piacendo come come gioco cioè pensate sia simpatico io credo di sì molto però va a gusti le cose gratis al lavoro sì cacchio è vero hai proprio ragione quello su linux eh sì è vero allora vediamo un attimo qua cosa possiamo fare non sono ancora arrivate le parti di ricambio ma non è possibile cosa faccio io cosa faccio io mhm oggetti segreti sì addirittura vabbè bongo l'ho capito ok mamma mia mamma mia allora sì upgrade a 1500 giga ok pc status ready to boot pc stats va bene va bene accetta upgrade so i can sail pc can play sail away the sailing simulator recommended spec orca vacca ok non molto giova eeeh ho capito will it run va bene awesome plastic white cables ok plastic white cables e altre ram mi serve allora uno due e cables plain own owned ma come fanno a costare 100 come è possibile sta diventando complesso eh horror eh mi sai che farò horror la prossima volta si questo qua sta diventando impegnativo ok va bene accettare eh non l'ho accettato questo no in transito ok ok ah cacchio l'hard disk anche devo comprare da un giga e mezzo no vediamo un attimo eh allora questo qua ok questo qua va bene questo qua ok upgrade 2500 lui ha già 500 perchè ci serverebbe un hard disk da un terabyte e adesso prendiamo quindi hdd dove sono qua sulle memorie forse no ah su storage giustamente due terabyte un terabyte per prezzo ascendente 320 320 500 eccolo qua perfetto eeeh no un giga e mezzo no forse l'ho letto male vediamo un attimo 1500 giga si un terabyte e mezzo ecco si si 1500 giga mi sono un terabyte e mezzo volevo dire non so cosa ho detto boh poi questo qua ok ah altra ram serve vero perchè vediamo un attimo upgrade 16 giga di ram quindi altro due banchetti di ram che però ho preso in teoria si perfetto eh è un giga e mezzo ma si dai the recommended specs needs a better gpu ok quindi prendiamo anche will it run che è il programma che dicevano prima vabbè l'ho aggiunto al carrello si guidi to ram perfetto e poi mmm replace motherboard ah si si ok sky lake vabbè questo qua l'abbiamo già fatto basta dire che ho preso tutto la ram l'ho presa ok ah no questo qua altra ram ancora serve se ne servono quattro di banchetti di ram allora vediamo oh è complesso eh cioè non c'è mica niente da ridere qua buy now next day delle riveri dai va ok bene e bongol come si usa forse vediamo ancora ah eccolo qua installiamo bongol vediamo che rating abbiamo su sto cosa sto aggregatore infame con calma eh con calma si restart perfetto hold the leader f2 bongol bongol una stella perchè giustamente mancava la pasta termica tempo che fu have no business ok ah ma vedete tutta roba vecchia questa qua mi pare eh credo ma che date hanno? 20 20 20 20 20 bah vabbè eh ok a posto spegniamo sto computer ok bene ragazzi allora io qui chiudo la puntata ma non la live per cui rimanete qui che fra 20 secondi riprendiamo grazie alla prossima grazie alla prossima chiusa 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 alla prossima